Non vi fidate di noi, noi vi diciamo delle cose, vi mostriamo dei grafici, vi mostriamo i titoli dei giornali, vi diamo conto dei numeri, però non vi fidate, ma non perché noi siamo in cattiva fede, perché magari potremmo esserci sbagliati, cosa che raramente accade perché qui ci sono vari filtri, però a livello di principio, sapete è un po' come quando si sale in aereo, no, io lo dico perché l'ho ripetuto spesso e volentieri, fra le cose che ho fatto nella mia vita è stata anche, e ancora perché ho ancora molta passione per il volo, quindi sono un pilota, un istruttore di volo e mi piace, quindi conosco molto bene quel settore e è un settore dove tu ogni volta che sali su un aereo hai una tua checklist e devi controllare tutto, anche se l'hai controllato mezz'ora prima, prima di decollare devi sempre ricontrollare tutto, non perché non ti fidi, se tu non fai la checklist, se tu non completi la checklist, non puoi decollare, un comandante serio non può farlo e se lo fa commette un errore che se viene beccato si becca le sue sanzioni e anche l'espulsione, perché il comandante deve completare la checklist, anche di cose che apparentemente possono sembrare banali, questo perché, ripeto, non per una mancanza di fiducia, ma proprio perché è sempre meglio che tutti noi ci ricontrolliamo quel che facciamo senza offendersi, è tutto nell'opera l'ottica di portare a compimento il volo in modo sereno. Ecco, non vi fidate di noi, non vi fidate della... e andate a riguardare, dopodiché se le cose coincidono vorrà dire che va tutto bene. Ecco, questo è un principio culturale, non che non vi dovete fidare di noi perché noi potremmo nascondere chissà, no, ma è proprio culturalmente va sempre fatta la verifica, come il comandante di un aereo deve sempre verificare tutto prima di partire, prima di decollare. Ad esempio nella checklist di un cittadino democratico che vaglia i comportamenti e della stampa e dei politici ci dovrebbe essere. Ci sono conflitti di interessi nelle cose che dice questa persona. Ha detto le stesse cose che ha detto l'altro ieri, se uno fa la checklist ad esempio di Matteo Renzi. Vabbè, quella è regalata. No, ma anche quella del Movimento 5 Stelle dell'ultimo periodo. E quindi c'è una diffidenza. Perché ecco, la differenza rispetto a un volo di linea in cui un cittadino si affida, dice il comandante si sarà controllato la checklist. Avrà fatto la checklist. Mica la devo controllare io, la controlla lui. Quindi delego, faccio questa cosa. In realtà nella democrazia non si può delegare così tanto. E la checklist deve essere sempre in mano anche all'elettore e non si deve accontentare di spuntare i dati soltanto ogni cinque anni. Deve avvenire un po' più spesso. E ci devono essere i luoghi dove questa cosa avviene. Ecco appunto. Certo sarebbe molto bello l'elezione di medio termine, no? Anche qui da noi. Sarebbe molto interessante. Perché in quel caso costringi il politico, costringi l'eletto a doversi comportare così come da promessa, no? Sì, questo può portare anche a altre degenerazioni. Ad esempio negli Stati Uniti dove esiste il mid term e quindi si vota ogni due anni per il congresso. C'è anche l'effetto della campagna elettorale permanente che è qualcosa che rende innanzitutto costosa la politica perché alla fine se la possono permettere solo quelli che raccolgono enormi quantità di... Sì, però la democrazia, caro Pino, è veramente un qualcosa di molto prezioso e quindi forse se ha bisogno dei costi è giusto che questi costi i cittadini non li paghi perché sennò guarda quello che sta accadendo. L'Italia è un paese oggi che ha perso centinaia di miliardi per gli errori della politica che continua a farli e che io comincio a pensare che potrebbero anche essere volontari perché è chiaro che mentre prima era una cosa da complottisti, era una cosa da scemi, pensare a una cosa del genere, oggi a distanza di tempo l'emergenza non finisce nonostante i numeri, i dati, le cose che abbiamo ripetuto e ripetiamo tutti i giorni. Continuano ad esistere persone folli che vanno nei media a dire cose folli, le istituzioni cominciano addirittura a provocare anche l'odio perché a mio avviso, ripeto, questa cosa che tu ci hai fatto notare stamattina sulla Repubblica, questo titolo che io personalmente non avevo visto ma perché io mi tengo un po' lontano ormai dal cartaceo. Basta violenza Novax su un'affermazione del Presidente, il Presidente avrebbe dovuto alzare il telefono e dire no, io i titoli di odio sulle mie parole non li voglio. Questo non è accaduto, non accade, non accadrà e io cittadino mi faccio delle domande e credo te le faccia anche tu da parlamentare. Sì, mi chiedo veramente quale sia il termine di questa deriva e la cosa che possiamo fare è cercare di costruire e far crescere dei media che raccontano qualcosa di diverso. Non è per fare uno spottone a radio radio ma servono fiori di questo tipo che crescano in un prato dell'informazione che oggi invece è dominato da un solo colore ed è anche un fiore OGM perché l'informazione oggi è assolutamente geneticamente modificata, manipolata, non credibile. Credo che purtroppo in Italia abbiamo la peggiore stampa dell'Occidente, la peggiore. Perché in Italia si è anche dato luogo e nessuna autorità su questo ha vigilato del fatto che questi giornaloni, le televisioni, i unioni eccetera si sono addirittura fatti degli autospot dicendo siamo noi la vera informazione pubblica e noi vigiliamo anche sugli altri quindi possiamo addirittura giudicare i nostri concorrenti. Cioè è come se io faccio il vino e sono io che dico e ho la possibilità di farlo e di dire che il vino del mio concorrente fa schifo. Beh ad esempio il responsabile della task force, ecco questi anglicismi che fregano il cittadino, della task force contro le fake news si chiama Gianni Riotta che è come mettere a capo della raccolta del sangue Dracula. Sì Dracula, abbiamo già detto ieri questa cosa ormai. Sì, lui è stato direttore del Tg1 e direttore del Sole 24 Ore e in entrambi i casi ha trasformato delle nobili testate che avevano i loro difetti ma avevano una loro storia in giornali ormai semidistrusi perché avevano perso copie e spettatori. Dove passa non cresce l'erba. Sì perché è proprio incompatibile con la verità il suo modo di raccontare le questioni internazionali è totalmente falsificato. È uno che ci ha raccontato che la guerra in Afghanistan era buona e giusta e ci abbiamo buttato 8 miliardi e mezzo per niente come Italia o gli Stati Uniti. Noi ridiamo ma è una cosa molto seria.